Il Catania ha il quarto giorno di allenamenti, ma ovviamente il cammino che porta alla trasferta sul campo del Fondi resta ancora molto lungo. Negli ultimi due giorni i rossazzurri hanno svolto altrettante doppie sedute, entrando già a regime con il piano di lavoro. Atleticamente il gruppo agli ordini di Rigoli è in salute e al di là di qualche stato febbile naturale come quello che ha colpito Mocino, ci sono infortuni o campanelli d'allarme che preoccupano del tecnico rossazzurro. Chiaramente una cosa è essere pronti per scendere in campo. Un'altra è garantire il massimo rendimento alla squadra e questo non è avvenuto da parte di tutti. A prescindere da qualunque situazione o retroscena di mercato, quindi bisognerà capire una volta per tutte su chi puntare per formare l'11 titolare da mandare in campo. Di certo davanti a Pisseri continueranno a giocare Dicek e Gjorgevic, mentre si dovrà capire chi sarà il compagno di reparto di Bergamelli. In mediale il trio formato da biaggianti, Bucolo è fornito da garanzie, ma individuare un comprimario di primo livello non farebbe affatto male. La solita annosa questione riguarda infine il reparto avanzato, perché Rigole ha la certezza di poter puntare su Anastasia di Grazia, ma non sa ancora chi di fatto comporrà il suo attacco.